Noi siamo molto bravi sia ad essere pericolosi nei nostri calci d'angolo e sia molto solidi nei calci d'angolo avversari. Invece no, sono stati bravi loro e dopo siamo andati un po' in sofferenza in ogni palla inattiva. Una volta che loro sono passati in vantaggio ho dovuto cambiare sistema di gioco perché il Palermo a quel punto cominciava a giocare il suo calcio, fatto di fraseggi corti, cambi di gioco, palle in verticale e arrivavamo sempre in ritardo. E perlomeno avevo detto ai ragazzi, ad alcuni ragazzi, se vedo che c'è qualcosa che non quadra riporto la squadra con tre centrocampisti e i tre uomini là davanti. Dopodiché ci siamo assestati bene, siamo andati in gol e poi nel secondo tempo naturalmente l'espulsione ha fatto sì che noi prendessimo campo e tutto. Dopo ho optato per le sostituzioni di Dossena e Zappa proprio perché loro erano stati ammoniti e non volevo portare l'arbitro magari ad un fallo un pochettino deciso e tutto, a fare la seconda ammonizione per cui dico mettiamo le cose a posto, tanto dei ragazzi validi che non è che non stanno giocando, non giocano perché sono meno di chi sta giocando, no, proprio perché vedo che le cose si stanno mettendo bene con quei ragazzi e cerco di cambiare il meno possibile. Mi ha sorpreso Pavoletti su tutti, è stato un punto di riferimento per la Padula, per Mancosu, Mancosu che non stava al cento per cento perché ha faticato molto, però ecco hanno retto bene tutta la gara, Mancosu l'ho cambiato proprio per non portarlo all'esasperazione e non rischiare nulla e chi metto metto vedo che entrano ma la cosa più importante è quello che avevo chiesto alla squadra. Diamoci dentro perché non possiamo staccare la spina e poi riattaccarla nei playoff. Gli evisodidi possono far vincere o perdere, però la mentalità, la determinazione bisogna che ce la mettiamo. Poi ho detto sta piovendo, riscaldiamo il pubblico perché è venuto ad incoraggiarci. Con i secconi ma non si fa la classifica, però ecco andiamo lì con la stessa volontà di far bene, cercando di vincere poi vedremo il risultato, prima vediamo il nostro e poi vediamo gli altri. Ma noi non dobbiamo dire porca miseria se avessimo vinto abbiamo solo pareggiato, si va là per cercare di fare il massimo. Il Cosenza dovrà fare il massimo e ne verrà fuori una partita molto combattuta. È stata una partita combattuta, il Palermo ha giocato molto bene, noi insomma siamo andati svantaggio, però siamo stati bravi a non sopperire e soprattutto non prendere il secondo gol, quello che a volte il secondo gol ti taglia le gambe definitivamente, invece siamo rimasti in partita, abbiamo pareggiato subito, abbiamo piano piano cercato di trovare la soluzione migliore, poi insomma il grande bomber oggi ha fatto veramente un bellissimo gol, poi siamo stati bravi ad amministrare la partita e portarla a casa. Siamo riusciti nel corso del giro di ritorno a creare una mentalità vincente ma soprattutto di squadra vincente perché chiunque ha giocato ha fatto bene quindi ci ritroviamo con una condizione ottimale ma soprattutto di tutti gli elementi che non è sempre facile e non è così semplice da pensare quindi siamo molto felici, siamo molto affiatati quindi questa cosa poi vincere aiuta a vivere meglio, fa vivere bene tutti e quindi c'è grande entusiasmo insomma ci stiamo preparando per il meglio. Sì è stato bellissimo perché poi anche soprattutto dopo il gol dello svantaggio lo stadio è rimasto caldo, ci ha spinto nei momenti più difficili quindi è stato bello, stadio pieno, stadio bagnato, insomma stadio fortunato e l'abbiamo portato a casa tutti insieme veramente. Noi ci proveremo fino alla fine arrivare quarti e quindi ci prepariamo al meglio, naturalmente sarà un bel test in vista anche dei playoff quindi dobbiamo andare lì nel migliore dei modi, provare a vincere e dare tutto perché poi ogni partita è un allenamento in più che ci prepara sia mentalmente che fisicamente ai playoff.